Salve a tutti amici, in questo video vediamo come trovare l'indirizzo IP del nostro iPhone quando è connesso ad un router. Ci può essere utile soprattutto per alcune applicazioni, come ad esempio un sistema di connessione che sfrutta l'iPhone come webcam, se da fuori ci chiedono qual è l'IP del nostro iPhone. È facilissimo, per andare a trovarlo basta andare nelle impostazioni dell'iPhone, andare sotto Wi-Fi e fare tap sul router al quale il nostro iPhone è connesso. Facciamo così, scorriamo giù e qua troviamo l'IP, la sottorete e il router. Questo è l'indirizzo IP del router al quale è connesso e questo è l'indirizzo IP locale ovviamente al quale l'iPhone è connesso al router ed è questo che ci interessa, quindi 192, 168, 188.47 nel mio caso. Poi qui si può andare anche a configurare l'IP e a metterlo in manuale se voi volete che il vostro iPhone abbia un indirizzo IP preciso, però bisogna rispettare la maschera di sottorete, insomma ci sono delle regole, io lo lascerei automatico se voi non avete delle nozioni di rete. Quindi questo è quanto, Wi-Fi, indirizzo IP. Grazie a tutti. Grazie a tutti.